Droga già pronta e confezionata e altra in coltivazione che avrebbe fruttato guadagni per 20.000 euro. La Guardia di Finanza di Como ha definito i contorni dell'operazione eseguita nei giorni scorsi in città che ha portato ad un arresto per coltivazione, detenzione ai fini di spaccio e al sequestro di 3 kg di sostanza stupefacente. I militari delle Fiamme Gialle avevano perquisito un box in una zona boschiva di via 27 Maggio e un'abitazione sempre nel capoluogo in via Muggio che, da quanto emerso, sarebbe stata la base logistica per la coltivazione della droga. A insospettire i finanzieri il forte odore di marijuana, grazie al fiuto dei cani dell'unità cinofila di Ponte Chiasso, nel box dell'uomo, un 54 anni italiano residente a Como, poi arrestato, trovati e sequestrati 674 g di hashish divisi in 7 panetti e 773 g di marijuana impacchettata in una busta di plastica, oltre a tutta la strumentazione necessaria a suddividere lo stupefacente. Nella casa dell'uomo, scoperte poi in camera da letto, quattro piante di marijuana e le attrezzature per la coltivazione, come le lampade o le ventole, dalle piante sequestrate, alcune alte più di un metro, avrebbe potuto ricavare più di un chilo e mezzo di droga. Sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato guadagni per 20.000 euro. L'uomo, come detto, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio e coltivazione di marijuana. E' stato poi trasferito al carcere del Bassone.